Ciao, mi chiamo Andrej Hotarek, sono della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. Oggi vi faccio vedere un allenamento per gli addominali. A noi pattinatori serve molto una tenuta forte del tronco, quindi lavoriamo molto gli esercizi in pliometria. Faccio vedere il primo esercizio e poi ci lo spieghiamo. Allora, prima cosa, è necessario contrarre chiaramente gli addominali, contrarre i glutei, tenere le gambe tese, il gomito deve essere a 90 gradi. Questo esercizio si esegue almeno per un minuto ogni volta che lo fate. Noi di solito facciamo tre ripetizioni da un minuto e mezzo. Una volta che questo esercizio non vi basta più perché non fate più fatica, allora si può aggiungere qualche difficoltà. Mettiamo un pallone morbido sotto i piedi. Altra variazione di questo esercizio che possiamo aggiungere e questo rullo con le maniglie e vado a eseguire un'estensione completa. E questo è come i patinatori allenano i muscoli del tronco. Mi raccomando, allenatevi in sicurezza e alla prossima.